Non si lasciano oggetti sull'arenile, ombrelloni, sedi, sdraio e altre attrezzature simili per non perdere il posto in spiaggia. È una regola universale, conosciuta da tutti, ma alcuni preferiscono aggirarla. A Mongiove, frazione di patti, sono stati posti sotto sequestro quasi un centinaio di arredi. Si è trattato di un'operazione congiunta, effettuata nel fine settimana tra Guardia Costiera, Comune di Patti e la locale delegazione del Rangers International, all'Associazione di Volontariato, che opera in accordo con l'amministrazione comunale. Un intervento per restituire alla pubblica fruibilità un tratto di spiaggia libera pari a circa 3.500 metri quadrati, occupato da attrezzature lasciate sull'arenile per non perdere il posto in spiaggia. L'attività è scaturita per rimporre il rispetto dell'ordinanza sindacale 88 del 12 maggio scorso del sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, che prevede il diveto di lasciare infissi o appoggiati sulle spiagge libere, ombrelloni, sedi, sdraio e altre attrezzature similari, incustodite anche negli orari notturni. L'operazione, condotta dal Comune di Patti e dalla Guardia Costiera di Patti Marina, con il supporto dell'Ufficio Locale Marittimo di Capodorlando, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Milazzo, è destinata a sensibilizzare i fruitori, a lasciare libere gli arenili e a scoraggiare la prassi del segnaposto. Con la collaborazione del Comune di Patti e del Rangers International, delegazione di Patti, tutte le attrezzature sono state rimosse e poste sotto sequestro in un luogo riparato.